Sono qua con i ragazzi del Real Rozzano, ragazzi, grande partita, vittoria sofferta, ditemi voi qualcosa della partita. No, la partita dicevo che è stata molto sofferta, secondo me era anche giusto un pari, ci mancavano tre piatine importanti stasera, comunque i rincalzi sono stati all'altezza, il bomber poi, è il bomber ragazzi, mica per niente ha vinto, ha vinto, il capocannoniere l'anno scorso, è andato bene dai, il bomber ha deciso ad affine, il bomber l'ha portato a casa, il portiere l'ha salvato, vi siete difese bene, il portiere è completo, è proprio una bella squadra, il campo è un po' piccolo, non si riesce a giocare tanto, piccolo piccolo, però comunque dai ragazzi abbiamo portato a casa, ciao ragazzi, ciao, 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 bravo.